Benvenuti a TR1 Channel, oggi vedremo un esercizio specifico sul TR1, vedremo il posizionamento del nostro equipaggiamento, vedremo la cadenza sulle sagome e vedremo il riaggancio del grilletto. Buongiorno e benvenuti alla prima puntata di TR1 Channel, oggi siamo al poligono per illustrarvi delle basi fondamentali del tiro. Prima di incominciare quindi un esercizio a fuoco, la prima cosa di cui dobbiamo essere certi è il nostro bersaglio e quello che c'è alle spalle del nostro bersaglio. Una delle cose primarie che andremo a fare durante il nostro tiro sarà quello di estrarre la pistola, l'estrazione quindi già in asse con il mirino, l'avambraccio, il carrello, quindi la posizione della fondina, nel caso in cui non fosse posizionata bene andremo a fare un'estrazione storta. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare qual è? Posizionare bene la nostra fondina e poi cosa fare? Fare un discorso inverso, cioè posizionare la pistola sulla nostra mano in linea con l'avambraccio e andare a vedere se quando la andiamo a inserire internamente, la pistola all'interno della fondina ci troviamo perfettamente per un'ottima estrazione. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo traguardare il mirino e dosare perfettamente il grilletto. Certo, questo con il nostro TR1 è avvantaggiato, è molto più facile, ma sempre bisogna avere il massimo rispetto e riguardo nei confronti del nostro scatto. Grazie. Grazie.